Tutto pronto per la festa di San Vittore a Davoli Borgo. Sentiamo il parroco Don Nicola Coppoletta. Don Nicola Coppoletta, parroco della Chiesa Santa Barbara di Davoli. Finalmente, insieme alla processione dedicata al Santo Patrono di Davoli San Vittore, tornano anche le feste civili. Cosa vuol dire questo per la popolazione? È un segno di speranza, di risveglio, ma nello stesso tempo anche di prudenza, perché dobbiamo sempre comunque fare le cose come anche i nostri genitori ci hanno insegnato. Quando si va a divertirsi, sempre con quella parola, mi raccomando, stai attento. E quindi quel senso di responsabilità che è tipico dell'uomo, ma nello stesso tempo è anche giusto il divertimento, un po' di svago, anche per rilassarsi e avere anche la possibilità di avere quel momento di relax con la propria famiglia, per incontrarsi con gli amici e anche rilacciare quei rapporti, perché non ci dimentichiamo che il Covid un po' ci ha distanziati in questo, giustamente per quanto riguarda i contagi. E allora è anche una possibilità per riprendere quei rapporti, per sapere come si sta, come stare insieme e non essere freddi, ma persone accoglienti come anche il popolo calabresi, il popolo di Davoli. E quelli sono i riti religiosi previsti nei giorni dedicati a San Vittore? Abbiamo iniziato già da ieri la novena di San Vittore, quindi va dal 12 al 21 di luglio. Diciamo che giorno 20 sarà il giorno della Vigilia e quindi ci sarà la Messa Solenne con i Vespri e poi il giorno della festa, giorno 21, alle 10 e mezza prima c'è la Santa Messa e poi il pomeriggio alle 5 e mezza nuovamente la Santa Messa a seguire la processione. Diciamo quello che abbiamo sempre fatto per la nostra comunità e poi ci prepariamo con le altre feste tipiche del luogo. Perché rivolgersi a San Vittore se si chiede una grazia? Perché prima di tutto è il patrono di Davoli, di tutta Davoli e poi nello stesso tempo è perché colui che ha protetto la comunità noi abbiamo anche qui un'immagine, un esempio di due bombe, una appunto nel 43 e una che risale molto recente e San Vittore continua a proteggere la comunità di Davoli e i suoi devoti proprio perché si affidano a lui e questo è anche un messaggio bellissimo cristiano, chi si affida a Cristo il Signore lo protegge e naturalmente questo vale anche per tutti i Santi del luogo in cui c'è la protezione di quel Santo o della Santa ma anche della Beata Vergine Maria. È bello che il cristiano possa riscoprire questo, che se noi vogliamo andare avanti nella vita colui o con lei che ci può aiutare è principalmente Cristo Signore, la Beata Vergine Maria, gli Angeli e i Santi.